Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, commentano la notizia del giorno. Ci piaceva l'idea che avremmo potuto vivere vedendo il mondo, con i soldi che avremmo speso stando Seattle. Questa è la motivazione che ha spinto Debbie e Michael Campbell, brillante coppia di americani in pensione, a fare una scelta radicale, cioè lasciare la casa e la città in cui avevano cresciuto i loro figli per un'avventura in giro per il mondo, a collezionare nuove esperienze. Partiti tre anni fa, lei era un ex pubblicitaria, lui un manager sportivo, sono diventati Senior Nomades, questo è il nome del blog che aggiornano continuamente sulle loro esperienze. Cosa ne pensi di questa scelta di arrivare alla pensione, mollare tutto, utilizzare i soldi e andarsene? È sicuramente una scelta stupenda e molto coraggiosa, nel senso che molti probabilmente, anche chiacchierando tra amici, in tanti si dicono che sarebbe bello piantare tutto e iniziare a viaggiare con i soldi che abbiamo da parte. Poi ci vuole coraggio, però sicuramente se avevano le possibilità di farlo hanno fatto bene. Quanti anni hai tu? 36. È più semplice farlo a 36 anni o a 70? Beh, allora, a 36 anni sicuramente è più semplice farlo da un punto di vista fisico, probabilmente affrontare dei viaggi, però da un punto di vista economico non è semplice, insomma, alla mia età difficilmente sia riusciti a mettere via un gruzzoletto tale da poter smettere di lavorare, quindi probabilmente economicamente a 70, fisicamente a 35, 36. Mi sembra un'ottima scelta. Come voi? E Seattle è lo stato degli Stati Uniti, è una città molto importante della costa ovest degli Stati Uniti, giustamente si vogliono godere la pensione, vedere il mondo, visto che è interessante il mondo, è sempre bello viaggiare anche per conoscere gente nuova, posti nuovi. E lo farebbe mai? Io sì. Quindi magari quando arriverà la pensione, mollerà tutto e partirà a girare il mondo? Sì, è un mio sogno, infatti mi piacerebbe andare in India, andare in Australia, andare in tanti altri posti. Per me viaggiare è una delle cose più belle che può fare un uomo, una persona, finché ha salute e soldi, lo può fare. È così, se aveva voglia, anche io sono lasciato a Brasile per venire qua, non è che sto male qua, sto bene, però così ce l'è la famiglia, devi pensare prima nella famiglia e nelle cose, ma se ce l'è solida è sufficiente per fare questa cosa, va bene. Tu hai lasciato il Brasile che eri giovanissimo, immagino, no? Sì, ho lasciato il Brasile due anni fa, aveva 20 anni e quando sono arrivata qua adesso sono con 22. In questo caso parliamo di due persone invece anziane, un po' più in là con l'età. Sì, sì, anziani cosa restano? Devi vivere, no? Il restante della vita. Bisogna approfittare degli anni che rimangono e sfruttarli per godersi il mondo. Certo, come no? Non ti chiedo se tu lo faresti mai perché l'hai già fatto. Sì, ma anche posso fare un'altra volta, basta che mi venga in testa. Cosa è che ti porta a cambiare paese, che ti spinge a cambiare paese? Io sono venuta qua perché il Brasile è troppo pericoloso, è bello però troppo pericoloso. Poi per una questione di lavoro, così non c'è tanto lavoro lì, qui, la situazione qua è meglio. Per finire, secondo lei è necessario avere delle grosse risorse economiche per viaggiare oppure è possibile farlo anche se non si hanno tanti risparmi? E lì è sempre, ripeto, la stessa questione di coraggio di cui ti parlavo prima. Si può anche fare a portafoglio vuoto, evidentemente noi adesso siamo abituati a certe comodità e le comodità costano. Se si rinuncia a delle comodità allo scopo di viaggiare a vedere il mondo, secondo me si può fare, è anche una cosa molto bella, molto, diciamo, avventurosa e tutto quanto. Uno deve capire come lo vuole fare, sicuramente è bellissimo. Noi tante volte ci facciamo delle menate per cose che magari il 100 euro, 200 euro, quando poi vedere il mondo non ha prezzo, insomma, conoscere culture diverse. Quindi si può fare anche senza soldi, è più difficile però. No, no, si può viaggiare anche con non tanti soldi, basta accontentarsi e adeguarsi un po' al posto in cui ti trovi. Perché poi l'Italia è carissima, se vai in certi paesi con quattro soldi dormi e mangi. L'Italia è uno dei posti più cari del mondo. very molto bello. Grazie.